Dare sicurezza e tranquillità agli anziani e ai disabili che vivono soli, conservando la loro autonomia. È l'obiettivo del progetto di domotica promosso dal distretto di Lecco. Alvia la sperimentazione che consente, grazie all'utilizzo di un kit di sensori ambientali di movimento e di contatto, di monitorare le azioni quotidiane della persona all'interno della propria casa, in modo non invasivo e rispettoso della privacy e della riservatezza. Una centrale operativa inoltre ha specifici allarmi al sistema nel caso in cui i sensori captino situazioni anomale, come assenza di movimento, eccessiva permanenza in una stanza, porta di casa lasciata aperta, mancato utilizzo dei servizi igienici. Gli allarmi hanno come destinatari familiari o assistenti personali indicati in fase di progettazione del servizio, oppure, in caso di persona sola, operatori professionali. L'obiettivo finale è favorire la permanenza a domicilio delle persone, offrendo loro una maggior sicurezza e una sorveglianza discreta, garantendo alle famiglie di essere allertate in caso di necessità. Destinati al progetto 40.000 euro per l'abbattimento del costo del canone a carico delle famiglie nella misura del 70%. Il prezzo annuale sarà dunque di 200 euro, circa 16 euro al mese. A gestire il servizio sarà la cooperativa L'Arcobaleno di Lecco, nell'ambito delle attività previste dal progetto Living Land. Il bando per accedere al servizio è aperto fino al 31 aprile, con possibile riapertura se saranno ancora disponibili risorse. Destinatarie sono le persone con un'età superiore a 65 anni che vivono sole o con un congiunto non autosufficiente, oppure i disabili che vivono soli o con il supporto di un solo familiare convivente. L'ISE non deve essere superiore a 38.000 euro. La domanda di contributo deve essere presentata presso il proprio comune di residenza all'ufficio protocollo. La graduatoria sarà pubblicata entro il 15 maggio.